La Cappella Palatina si trova all'interno del Palazzo dei Normanni, a Palermo, costruito nella parte più alta della città. La Cappella Palatina significa cappella di palazzo e fu voluta dal re Ruggero II di Altavilla, primo re normanno della Sicilia, e utilizzata da quest'ultimo come cappella privata a partire dal 1130. Un tempo l'aspetto di questo luogo era diverso. Della sua facciata originaria non è rimasto nulla, perché venne inglobata nelle strutture più recenti del palazzo. Originariamente sorgeva isolata e l'abside era rivolto ad Oriente come vuole la tradizione. La navata della chiesa, a croce latina, è suddivisa da dieci colonne di granito in tre navate. Il presbiterio, a pianta quadrata, è sormontato da una cupoletta emisferica, come quelle che si vedono nelle chiese bizantine. Sulle pareti troviamo moltissime iscrizioni e sono sia in latino che in greco. Questo testimonia che al tempo di re Ruggero II le componenti religiose che vi erano a Palermo si controbilanciavano e c'era tolleranza. E questo dimostra anche che qui venivano celebrati i riti sia in greco che in latino. La cappella sorge in un momento di grande creatività artistica e operarono insieme artisti di origine e sensibilità diverse. Il risultato è un capolavoro dove si può riconoscere la politica multiculturale sostenuta da re Ruggero. Qui si incontrano la cultura orientale e quella occidentale e non solo. Nel pavimento si vedono dei mosaici, ma non sono in pasta vitrea, ma in pietre preziose. Troviamo marmi che vengono da tutto il bacino del Mediterraneo come il porfido rosso, preziosissimo e costosissimo. Dunque il pavimento è di matrice araba, così come arabo sono le decolazioni a palmette stilizzate che troviamo sulle pareti, sopra le quali vi sono i magnifici mosaici bizantini. I mosaici bizantini sono formati da due lastre di vetro, tra le quali si trova uno strato sottilissimo di oro. Quindi ciò che luccica è proprio oro, ed è un chiaro riferimento alla parola di Dio. Dio è luce e per rappresentare Dio bisogna utilizzare la cosa più preziosa e luminosa che esista. Qui lavorarono insieme maestranze arabe, normanne e bizantine, grazie alla politica di tolleranza adottata da re Ruggero. Si ricorda per esempio che al tempo dei normanni non tutti sapevano leggere e scrivere e quindi di Ruggero adottò un linguaggio che poteva essere compreso sia da chi era analfabeto che dalle culture diverse. Questo è importante perché qui il re accoglieva gli ospiti più importanti e più ragguardevoli che venivano ad omaggiarlo anche da lontano. Mostrarsi di larghe vedute significava entrare in giusta relazione con loro. Come in un libro illustrato vi sono narrate le storie di Cristo, le storie della Genesi e la storia dell'Antico Testamento e anche quelle dei Santi Pietro e Paolo in un'unione ideale di tante culture e di tante civiltà che caratterizzano il bacino del Mediterraneo. Osservando il presbiterio si nota che tutto ha un significato e nulla è lasciato al caso. Il presbiterio ha una forma quadrata. Il quadrato rappresenta la terra con i suoi quattro elementi, terra, acqua, aria e fuoco. E nel tamburo un ottagono ottenuto realizzando doppie dicchie a ogni angolo. Otto è la ressurrezione ma anche simbolo del giudizio universale e indica l'incognita a cui segue la perfezione, geniale soluzione per arrivare al cerchio, cioè a quella figura geometrica che non ha inizio e non ha fine e dunque rappresenta Dio. Infatti la cupola simboleggia il regno celeste dove Cristo è supremo Signore ed è circondato da arcangeli e angeli che sono i suoi soldati. Intorno alla cupola vi è la scritta, il cielo è il mio trono, la terra allo sgabello dei miei piedi. Nel tamburo vi sono i quattro evangelisti e i profeti. Nell'abside vediamo il Cristo Pantocrator, cioè è il Signore del creato che benedice alla greca con la mano sinistra, mentre con la mano destra tiene il libro della Bibbia in cui è scritto in greco e in latino io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la vita eterna. La separazione della terra dal mare è una tra le immagini più interessanti della cappella. Il globo terrestre è una sfera d'acqua con al centro tre parti di terra che rappresentano i tre continenti allora conosciuti, Europa, Africa e Asia, divise da strisce di mare che formano una Y, simbolo della Trinità. È anche la scena della creazione di Adamo molto interessante dove si vede una grande rassomiglianza tra il volto di Dio e quello di Adamo, sottolineata dalla frase in latino Unico al mondo di notevole importanza è il soffitto. Si tratta di un soffitto fatimita, ama quernas, che significa stalattiti o alveoli. Questa struttura autoreggente è costituita da tavole molto sottili di abete dei nebrodi. Ciò che vediamo sono 750 dipinti su tavola indipendenti l'uno dall'altro e ciò che viene rappresentato da artisti sconosciuti, ma sicuramente proveniente dal Nord Africa, è la rappresentazione del paradiso coranico. In sostanza vengono rappresentati tutti i piaceri dei sensi e dello spirito che attendono i credenti dopo la morte. Si vedono alberi, mostri, pavoni, aquile, uomini accovacciati con le gambe incrociate alla musulmana, generalmente in atto di bere o di andare a caccia, suonatori di piffero, di tamburo, nacchere e arpa e scene di danza. Tutte queste scene appartengono all'iconografia profana islamica, le cui immagini raffigurate rappresentavano simbolicamente l'augurio per una vita felice dopo la morte.